Quando come perché video informazione per la scuola per i genitori parliamo di come si elabora il piano didattico personalizzato per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento DSA a cura di Vincenzo Riccio dal sito www.fantasiaweb.it Per elaborare il piano didattico personalizzato occorre 1. Conoscere lo studente 2. La diagnosi sanitaria che comprende la diagnosi clinica e il profilo di funzionamento 3. Le osservazioni dei genitori Questi dati vanno messi a confronto per avere un quadro comparato sul che cosa fare e se manca qualcosa nessuno di questi documenti può mancare Poiché senza la diagnosi non si può attivare nessun percorso senza una conoscenza dell'alunno da parte dei docenti non si può avanzare neanche la richiesta di certificazione Senza la collaborazione dei genitori il progetto non è realizzabile E allora se manca qualcosa va acquisito Per questo puoi usare le schede messe a disposizione sul sito www.fantasiaweb.it Sezione dislessia Passo a spiegare come elaborare il piano didattico personalizzato Utilizzo come modello le schede scaricabili sul sito Fantasia Web cliccando sui pulsanti fase 4 e fase 5 Ti consiglio di stamparle Nella fase 4 sono schede relative all'analisi dei dati Nella fase 5 le schede per la elaborazione del piano didattico personalizzato Si passa alla fase 4 Analisi dei dati messe a confronto delle informazioni a disposizione dei docenti Vale a dire osservazione docenti Diagnosi sanitaria Osservazione dei genitori Per ogni scheda riportata nella scheda 8 si analizza la dimensione lettura Viene fatto un confronto rispetto alle diverse dimensioni Fra i dati forniti e presenti nella diagnosi e le osservazioni dei docenti In questo caso viene fatta un'analisi approfondita Rispetto alla velocità di lettura, alla correttezza e alla comprensione Sulla colonna di sinistra, dati desunti dalla diagnosi specialistica Sono riportate le indicazioni scritte Nella colonna di destra, quelle delle osservazioni dei docenti Proprio questo confronto presente Permette di ricavare una serie di osservazioni E fare delle scelte Su come e che cosa elaborare del PDP Vale a dire su quali insegnamenti bisogna insistere E che cosa bisogna fare relativamente a questi insegnamenti Nella successiva scheda 9 viene fatta un'analisi Per quanto riguarda la scrittura con le stesse modalità Si sono riportate le diverse dimensioni Grafia, tipologia di errori Tipologia di errori ortografici Di nuovo sulla colonna di sinistra Sono riportati i dati desunti dalla diagnosi specialistica E sulla colonna di destra I dati desunti dalle osservazioni dei docenti Quindi vengono da scritte con lo stesso criterio E la stessa mitodologia Si passa quindi alla scheda relativa al calcolo Di nuovo viene fatto un confronto Fra le diverse variabili In questo caso calcolo mentale e calcolo scritto Sulla colonna di sinistra Sempre i dati desunti dalla diagnosi specialistica E sulla colonna di destra I dati desunti dalle osservazioni dei docenti Per queste variabili noterete che non sono riportate Le osservazioni dei docenti In quanto sono osservazioni di particolare competenza O dello specialista o dei docenti Mentre saranno richieste delle collaborazioni Per quanto riguarda le schede successive Ed in particolare Nelle schede successive viene fatta un'analisi Per quanto riguarda le abilità Relativa allo sviluppo di apprendimento Relativa all'autonomia e partecipazione E rapporti interpersonali dell'alunno Modalità di studio E stili di apprendimento dell'alunno Una particolare attenzione va portata Sugli stili di apprendimento E le strategie di apprendimento Perché soprattutto su queste dimensioni Bisognerà operare Per riuscire a trovare dei trucchi Per bypassare le difficoltà specifiche di apprendimento Infatti sarà soprattutto lo studente Che dovrà attuare strategie nuove Per superare le sue difficoltà Si passa quindi alla fase 5 Alla vera elaborazione del piano didattico personale Qui nella prima parte In alto della scheda 15 Viene indicato l'insegnamento Per cui si elabora il PDP In questo caso abbiamo scelto la matematica Quindi si indica la sottoarea Quindi la dimensione in questo caso calcolo E sotto ancora si riportano i docenti Che collaborano alla stessura Di questo PDP Notare che la scelta dell'insegnamento Viene ricavata dai dati precedentemente analizzati Nella parte intermedia della scheda Invece va riportata un po' La programmazione Messa a confronto Fra la programmazione Che si effettua e si deve effettuare O prevista per la classe E a destra invece la programmazione Differenziata Per l'alunno Oggetto del PDP Notare che la programmazione Deve essere equivalente Alla fine del progetto L'alunno dovrà avere le stesse Tra virgolette performance Degli altri alunni Seguendo dei percorsi però diversi E degli obiettivi strategicamente definiti Un consiglio è quello di non soffermarsi molto Sulla programmazione generale E mandare molto spazio invece Agli obiettivi specifici di apprendimento Questo perché? Perché sono più facilmente evidenziabili Manipolabili e concreti Rispetto agli obiettivi generali Che per lo più rimangono molto evanescenti Quindi nello stesso modo Si definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento Per la classe e poi quelle per l'alunno Sotto ancora sono riportate le competenze da acquisire Cioè che cosa esattamente deve acquisire la classe E che cosa esattamente deve acquisire l'alunno Considerando la diversità degli obiettivi Nella equivalenza degli obiettivi Che si devono raggiungere Quindi è chiaro che saranno fissati degli step diversi Per arrivare poi ad obiettivi equivalenti Nella scheda 16 Serve per individuare gli strumenti compensativi Dispensativi e le strategie di apprendimento Nonché le metodologie didattiche da usare E questa è la fase più critica di tutto il PDP Ecco, si passa prima all'analisi delle strategie e metodologie Va sempre indicato se quel tipo di scelta Va applicato a scuola o a casa Molta volta vengono applicate più strategie a casa Che non a scuola È di fondamentale importanza Saper scegliere le strategie e le metodologie didattiche Il successo del piano dipende da queste scelte Gli strumenti compensativi e dispensativi Sono gli ausili delle strategie Quindi sono al servizio di queste Una scelta sbagliata delle strategie e metodologie Fa perdere valore agli strumenti stessi Nella seconda parte della scheda 16 Sono invece indicate le misure dispensative Che bisogna assumere Per promuovere e sollecitare gli apprendimenti dell'alunno Sia a scuola o a casa Gli strumenti compensativi Gli strumenti compensativi si intendono tutte le cose Dal labbaco Alla sottolineare A tenere il dito Fino al computer ed altre cose Quindi è una panoramica molto estesa E poi le risorse umane Le risorse umane riguardano soprattutto Le attività ai docenti da fare fuori dal mondo della scuola Non resta che augurarvi Buon lavoro Grazie a tutti 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 Grazie.